L'ACA restituisce quanto dovuto ai comuni. L'azienda quedotistica ha faticato per rimettere a posto i conti. Chiusa la procedura concordataria terminata ufficialmente lo scorso 11 maggio e sanati i sospesi con i creditori, ora si passa i soci e tra questi ci sono gli enti locali. La prima rata di rimborso a scadenza 31 luglio. Pescara e Montesilvano sono i comuni che dovranno avere indietro cifre importanti, rispettivamente 5-2 milioni e mezzo di euro. L'ACA ha pagato 70 milioni di debiti, quindi ha chiuso tutte quante le poste con i creditori e quindi l'ACA comincia a rimborsare gli azionisti, cioè i comuni che sono i soci della società. Abbiamo un piano di rimborso da 20 milioni, 2023-2027, le prime rate partono alla fine di luglio, quindi questo lunedì. Chiaramente possiamo sempre migliorare, partiamo da una situazione di grande disorganizzazione, però l'ACA finalmente è tornata sul territorio con investimenti in bonus. Le infrastrutture idriche conferite dai comuni sono beni alla stregua degli altri da mettere dunque in bilancio con tutti i relativi accolli come il mutuo acceso per l'acquisto. Stiamo operando praticamente su infrastrutture che sono state realizzate, sappiamo, parecchio tempo fa, quindi abbiamo portato manutenzione e innovazione delle reti. Stiamo lavorando intensamente adesso per il PNRR, in particolare sui sei comuni della Litorania, dove scenderanno, atterreranno 17 milioni di interventi.